segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te più libertà di che stiamo parlando giovanni non di un aiuto al popolo diciamo 10.000 euro in tasca non non è un classico atteggiamento delle famiglie né degli imprenditori perché alzare il prezzo al contante significa in buona sostanza che posso girare andare a comprare un oggetto che voglio comprare pagandolo fino a 10.000 euro in contanti è un simbolo diciamo un simbolo politico da sempre la destra in qualche misura anche matteo renzi quando voleva far capire che il suo obiettivo era piacere anche all'elettorato della destra parlano di alzare abbassare il tetto al contante adesso si arriva a 10.000 per farsi notare ma fondamentalmente io credo che il messaggio sia sociologico culturale cioè noi non vi perseguiteremo sulle piccole spese noi punteremo ai grandi evasori in realtà penso che sia da un punto di vista del persino dell'evasione spicciola sostanzialmente ininfluente perché noi c'è l'evasione diffusa quella contro cui Giorgia Meloni ha detto di non volersi non volersi risolvere rivolgere che non si gioca su tetti così alti e l'evasione diffusa quella del piccolo lavoro da 100 euro quello del piccolo lavoratore autonomo e quando si parla di 10 mila euro in contanti si parla già di affari poco leciti più di una possibilità di riciclare che non di evadere io compro con 10 mila euro tante cose piccole che potrò rivendere a tantissimo non le rivendo ma in realtà faccio risultare con la fatturazione che mi sono entrati sono giochi da da famiglie mafiose e non è quello cui si rivolge Salvini Salvini vuole dare un segnale non vi inseguiremo con lo scontrino non vi inseguiremo con la fattura e nella tradizione più antica del centrodestra diciamo dal punto di vista dei contenuti Giorgia Meloni e la coalizione di centrodestra stanno dicendo siamo ai tempi di Berlusconi premier solo che questa volta il gioco il ruolo di Berlusconi lo interpreta Giorgia Meloni e Berlusconi interpreta il ruolo di Follini di Casini di Gianfranco Fini la piccola diciamo il la parte minoritaria di quella maggioranza che crea tanti tanti problemi Giorgia Meloni lo sa allora io e te però è un po' Giorgia Meloni e Berlusconi Giorgia Meloni e Berlusconi